La nostra visione è quella di essere fornitori di tecnologia abilitante per la digital transformation. La digital transformation per essere realizzata correttamente deve passare necessariamente dalla digital process automation. E noi mettiamo a disposizione ai nostri clienti tutte le capability necessarie per realizzare questo, che vedono fondamentalmente cinque elementi base. Il primo sono i partecipanti, le persone, l'internet delle cose, ma non solo. Il secondo elemento fondamentale è l'automazione. Il terzo elemento è l'intelligenza, quindi fornire all'interno del sistema tutte le regole e i metodi che permettono di realizzare questa intelligenza e di metterla a disposizione dei partecipanti, non trascurando come quarto elemento i metodi, quindi le business rule che devono essere gestite. E come ultimo, ma non meno importante, è l'aspetto integrazione. Tutti questi cinque elementi sono racchiusi all'interno delle nostre soluzioni. La soluzione in realtà è una soluzione che combina diversi elementi. Digital Factory è automazione dei processi. Per l'automazione dei processi è fondamentale disporre di uno strumento che le permetta la completa gestione, integrato con funzionalità di dynamic case management. Tutte queste capabilities sono all'interno di un unico prodotto e quindi sono nativamente integrate. Quindi Pega mette a disposizione dei propri clienti una sola piattaforma che permette la digital process automation in una logica end-to-end.